Vi ricordiamo che dallo scorso 20 ottobre per vedere RAI 4, RAI 5, RAI Movie, RAI Premium, RAI Gulp, RAI YoYo, RAI Storia, RAI Sport Plus e RAI Scuola è necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder HD. Per ulteriori informazioni consultate nuovatvdigitale.mise.gov.it Per ulteriori informazioni consultate nuovatvdigitale.mise.gov.it Per ulteriori informazioni consultate nuovatvigitale.mise.gov.it